Nei quali abbiamo cercato di mettere tutte le risorse che avevamo, abbiamo speso nella scorsa legislatura circa tra i 30 e i 40 milioni di Euro rispetto ai 5 soltanto che erano stati utilizzati in quella che mi ha preceduto quando ha governato il centro-sinistra. Oggi fermiamo un protocollo per 75 milioni complessivi di interventi contro l'erosione della costa che sommati a quelli della precedente legislatura fanno oltre 100 milioni investiti per difendere le coste abruzzesi e quindi anche e soprattutto l'economia turistica legata alle stagioni palmeari.